Ciao a tutti, conoscete il plugin VectorBender per georeferenziali dati vettoriali? Come forse ci avete già sentito dire in qualche altro video, noi siamo passati, non da tantissimo, dall'usare full-time un GIS a pagamento a QGIS. Quando si fa un passaggio di questo tipo, ci si chiede come fare, nel nuovo software, le operazioni di base che di solito si fanno agevolmente. Una di queste è la georeferenziazione di dati vettoriali. A questo scopo, molti sanno già, altri magari lo ignorano, che esiste un plugin VectorBender sviluppato da Olive e da Lama, che permette di fare ciò. Tuttavia, per molto tempo abbiamo continuato ad avere difficoltà a georeferenziali dati vettoriali proprio con VectorBender. Da poco ci abbiamo riprovato e abbiamo capito cosa sbagliavamo. Ne approfittiamo quindi per ricapitolare come esige referenze a un dato vettoriale proprio con VectorBender e vi diciamo anche il nostro errore, magari può essere utile a qualcun altro. Per fortuna, oggi, sempre più raramente, capita che ci possano passare dati non georeferenziati. Eppure ancora accade che circolino dati vettoriali non georeferenziati. In QGIS, Olivier Dallant ha sviluppato una tool che ci permette di georeferenziare i nostri dati vettoriali. Secondo noi, questa tool o qualcosa di simile dovrebbero proprio essere inseriti nel core di QGIS perché mancanti. Ad ogni modo, primo aspetto interessante è che il plugin funziona sia con dvg che con dxf, che con shapefile, che con file gpkj. Per prima cosa, vediamo come installare il plugin VectorBender. Andiamo nel menu Plugin e clicchiamo su Gestisci e Installa Plugin. Scriviamo VectorBender Per facilitarci, nella casella di ricerca e clicchiamo sul polsante Installa Plugin, in basso a destra. Alla fine dell'installazione, comparirà nella barra dei plugin l'icona di VectorBender, che è Bender Rodriguez, il robot di Futurama. Altrimenti potete aprire il plugin dal menu Plugin e poi cliccando sulla voce VectorBender. Siamo pronti per georeferenziare un vettore. Noi, a questo scopo, abbiamo manomesso uno shapefile che abbiamo a disposizione, modificandone posizione, scala e rotazione, in modo che risulti non essere più georeferenziato. Vediamo dunque, passo passo, come procedere per georeferenziare il nostro vettore con VectorBender. Primo step. Assicuriamoci che sia l'elemento da georeferenziare, sia l'elemento da usare per georeferenziare, siano nello stesso sistema di riferimento. Per farlo apriamo la finestra delle proprietà prima di un layer, poi dell'altro e andiamo alla voce sorgente. Controlliamo il codice EPSG del sistema di riferimento assegnato. Dovrà essere lo stesso in entrambi i layer. Noi abbiamo gli edifici non georeferenziati nell'EPSG 25.8.33 e gli edifici georeferenziati anche. Se i due layer dovessero avere invece un sistema di riferimento diverso, devi riproiettarne uno. Secondo step. Assicuriamoci che anche il sistema di riferimento del progetto combaci con quello dei due layer. Nel nostro caso è così. Anche il nostro progetto è in 25.8.33. Nel caso in cui non fosse così, basta andare in basso a destra e cliccare nella casella EPSG. Si aprirà la finestra delle proprietà del progetto dedicata al sistema di riferimento. Qui, alla voce Filtro, è possibile inserire il codice che ci interessa. Per poi selezionarlo e premere Applica. Terzo step. Clicchiamo sull'immagine di Bender. Comparirà la finestra che ci permetterà di georeferenziare i dati. Settiamone i parametri. Layer to Band. Qui dobbiamo inserire il layer da georeferenziare. Nel nostro caso edifici, non georeferenziati. Clicchiamo anche sul pulsante a forma di matita per mettere il layer in modalità modifica attiva. Se vuoi, sulla destra, c'è anche la possibilità di mettere la spunta alla voce Restrict to Selection se non vuoi modificare tutto il tuo layer ma solo una parte. Per layer. Qui possiamo creare un layer virtuale all'interno del quale potremo indicare le coppie di punti da convertire dalle vecchie coordinate alle nuove coordinate. Per farlo, clicchiamo sul pulsante a forma di V. Verrà creato appunto un vettore virtuale che di default si chiama Vector Bender. Si tratta di un layer lineare la cui origine di ciascuna linea concede con la coordinata non georeferenziata di un punto e la fine di ciascuna linea concede con la coordinata georeferenziata dello stesso punto. Prima di continuare assicuriamoci che anche il layer Vector Bender sia in modalità modifica attiva cliccando anche in questo caso sul corrispondente pulsante a forma di matita. Inoltre, e qui era l'errore che facciamo noi, anche questo layer deve essere nello stesso sistema di riferimento degli altri layer. Quindi, apro la finestra delle proprietà del layer Vector Bender vado in sorgente e vediamo che qui attualmente l'EPSG è il 4326. Questo era l'errore che facevamo noi. Non ci eravamo accorti che anche il layer Vector Bender deve essere nell'SR del progetto e degli altri layer. Quindi modifichiamo il sistema di riferimento nel 2583.3 Quarto step Selezioniamo il layer Vector Bender nel pannello dei layer e clicchiamo su Aggiungi elemento lineare e andiamo a individuare le coppie di punti utili alla georeferenziazione. Clicco sul primo punto con il tasto sinistro del mouse. Poi clicco nella posizione che dovrò occupare sempre con il tasto sinistro del mouse. E per completare la linea clicco con il tasto destro del mouse. A seconda delle condizioni in cui versa il layer non georeferenziato possiamo avere la necessità di aggiungere una quantità diversa di coppie di punti o linee. Più nello specifico, una coppia di punti, traslazione. La traslazione è sufficiente quando il file non georeferenziato non è deformato, scalato o ruotato rispetto alla mappa georeferenziata, ma è solo spostato rispetto ad essa. Infatti la traslazione conserva inalterate le lunghezze. Nel nostro caso non è sufficiente, quindi andiamo avanti e aggiungiamo un altro punto. Due coppie di punti. Scegliamo questo secondo punto, possibilmente in posizione opposta al primo. In questo caso la trasformazione che viene effettuata è lineare. Poiché questo tipo di trasformazione, matematicamente, conserva la somma di vettori e la moltiplicazione per uno scalare, risulta essere utile per mappe rimpicciolite o ingrandite rispetto alla dimensione reale, oltre che traslate. Teoricamente questa trasformazione dovrebbe conservare gli angoli, ma nella pratica ci sembra che sia invece più simile ad un'affinità. Aggiungiamo un ulteriore punto. Tre coppie di punti. Affinità. Questa è il risultato della combinazione di una trasformazione e di una trasformazione lineare. Il risultato di questa combinazione può essere una rotazione. Quattro coppie o più di punti. Se continuassimo ad aggiungere punti avremmo il bending, o letteralmente piegatura del nostro shapefile da georeferenziale. Questa opzione corrisponde all'operazione anche detta di rubber sheet, letteralmente foglio di gomma, in cui lo shapefile di partenza viene completamente deformato per adattarsi all'elemento georeferenziato. Il software ci ricorda in quale di queste quattro possibilità stiamo lavorando man mano che aggiungiamo i punti. Se volessimo cancellare una coppia di punti, o quindi una delle linee che abbiamo creato, basterà selezionarla e premere il tasto Cance da tastiere. Noi ne cancelliamo due, perché il tipo di file che abbiamo è più che sufficiente una trasformazione lineare. Finalmente possiamo premere Run. Et voilà, il nostro file è stato georeferenziato. Bene, il nostro tutorial è terminato. Speriamo di esserti stati utili. Se è così, condividi questo video. Hai dubbi o suggerimenti? Scrivilo qui sotto nei commenti. Iscriviti al canale, così da non perdere i prossimi tutorial che pubblicheremo sui sistemi informativi geografici. Se vuoi la trascrizione completa di questo video, più ulteriori tips e tricks, visite il nostro sito. Il link è nel box informazioni. Ci gissiamo la prossima volta. Ciao! Ciao!